Ciao a tutti ragazze e ragazze, benvenuti, ben tornati in un nuovo, un nuovissimo video mi viene molto da ridere perché c'è il mio gatto proprio qui che mi guarda in un modo molto molto strano e sicuramente ora si appazzia anche le unghie, vero? ok, fa chi ma guarda il tuo problema, allora, no, non ti mangiare il microfono, mi serve dai, per lì, mi sembra, mi dispiace di non farlo vedere perché devo farlo, no, 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 non mangiare il microfono va a comparire il mio video? va a comparire il mio video? no allora, ragazzi e ragazze, come, 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 scusate mi sto levando le ciappate come, 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 come sta io spero molto, 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 molto io sto abbastanza bene, buonissimo e infatti io per questo video in realtà non mi sono preparata niente di che mamma mia, questa fraccetta non è poco parleremo in questo video soprattutto di come affrontare i momenti no nella vita perché io ne sto, diciamo, scelto da questo momento no molti di voi mi hanno scritto che nell'ultimo video si vedeva che non stavo molto, molto bene ed effettivamente è così ho appena passato un periodo proprio ma da quel periodo in cui dici no, vabbè, ma, 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 che è? cioè, che, che cos'è? e quindi niente, sì, in quel video in realtà non stavo benissimo al pieno delle mie forze però le sto recuperando piano piano vi stavo dicendo prima che il mio canto facesse un casino assurdo che non stavo al pieno delle mie forze perché ho appena attraversato un momento no solamente che ogni persona, cioè, vabbè, ogni canale diciamo anche io preferisco portare le cose positive perché appunto anche l'SML è una cosa positiva non mi fa stare bene sapere che non sono l'unica al mondo ad avere un momentino a vedere, diciamo, diciamo, piccole spetture quotidiane mi dà un sacco forza vedere video degli altri che parlano dei loro momenti ecco, ecco, perché gli shanty mi piacciono davvero 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 tanto e lei parla davvero davvero molto 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 aperto e non è da tutti e non deve essere assolutamente da tutti secondo me però i suoi video mi hanno aiutato davvero davvero molto e un'altra ragazza, anzi, altre due ragazze, due canali che mi hanno aiutato molto in questo periodo sono Leanna Alexandra è una ragazza americana sembra davvero davvero molto molto dolce che parla un po' di consigli anche sulla legge dell'attrazione ezzatela sulla positività e Isabel Palacios, tipo credo si chiami un'altra ragazza che più o meno tratta gli argomenti di Leanna Alexandra loro, oltre ad essere molto brave e molto belle e molto wow hanno l'inglese anche molto fluido almeno io lo capisco, lo capisco benissimo quindi sicuramente perché loro hanno un'inglese molto fluido e quindi riesco a capire molto 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 moltissimo se questo video avrà buon senso logico però l'importante è capirla sia l'importante appunto è anche questo poi sia un filo logico o no non lo so perché ripeto non mi sono preparata a niente quindi niente, mi stavo raccontando del mio periodo no, un periodo nero, cubo ma io credo che sia l'influenza un po' dei miei pianeti dei pianeti del mio segno zodicale un po' di febbraio che secondo me non è il mio mese ideale però già con il sole con la primavera con l'odore del mare perché io abito vicino al mare quindi ci avviciniamo all'estate mi sento l'odore del mare dalla mia finestra i fiori e tutto questo mi fa davvero davvero stare tanto 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 bene e poi delle cose positive che stanno accadendo in questo periodo e soprattutto soprattutto la grande soddisfazione che mi date perché molti di voi anche molti di voi stanno acquistando i miei segnalibri e io non ci posso ancora vedere davvero pensavo che nessuno si sarebbe mai acquistato nulla da me perché io penso sempre di non essere brava ed è anche un po' per questo che non porto video di disegno sul canale perché penso sempre quanto migliorerò quanto migliorerò quanto migliorerò lo farò lo farò lo farò e vabbè oltre al fatto che non ho un'attrezzatura così tanto comoda perché per fare video di disegno dovrei mettere appunto il cavalletto che ho ora sopra il tavolo però io disegno quindi sto tipo scomoda un po' storta o se no il video viene storto infatti credo i prossimi sì lo farò li farò un po' storti però voglio continuare tantissimo la catena del dei siti saggiali oggi poi è martedì sera credo sì è martedì sera e ho appena fatto su instagram fatemi delle domande cose del genere non è scontato questa cosa perché io mi vergogno sempre tanto soprattutto su instagram che ci sono persone che mi conoscono proprio dal tiro che non so se sanno che ho un canale youtube ma sicuramente l'hanno capito però vabbè sono io che vi faccio le mie parole mentali e perché io vorrei cominciare a parlare con voi anche su instagram mi piacerebbe tanto interagire un po' di più e e vabbè tutto questo per dire che ho chiesto non lo so se avevate delle domande e mi avete risposto davvero in tanti già per me in tanti magari per la media sta a tante persone no? però per me sì per me davvero tantissimi e mi avete prima di tutto rendito di complimenti soprattutto sulla mia arte e mi avete chiesto quando porterò video di disegno ragazzi io sono rimasta wow proprio wow perché io pensavo che a voi non interessava cioè nel senso pensavo che a pochissimi di voi interessava i miei video i video di disegno ecco dice cavolo mi avete chiesto Sara quanto li fai quanto torneranno i tuoi disegni mi piace tantissimo come disegni davvero ragazzi io mi sono davvero davvero commossa soprattutto in un periodo della mia ragione soprattutto in un periodo così sentire il calore dell'affetto delle persone che ti seguono che credono in te che vedono che ti piace insomma quello che fai davvero io mi sono commossa molto e poi quando vedete che avete stimato di mie per me non ascoltato e non ascoltato che voi che comunque non mi conoscete provate stimani che confrotti e soprattutto mi avete anche detto che vi emano molta positività e relax ecc quindi significa che sono un pochino brava forse in quello che faccio anche se io li vedo i video delle altre e loro sono wow quindi io danno sempre a smegirmi vabbè questo è un problema vero quindi niente ho ho deciso così di alzare la telecamera no vabbè in realtà no perché mi sono dato una truccata una sistemata e appunto per tutti i commenti bellissimi le risposte bellissime le domande bellissime che ho ricevuto quindi niente io con questo video volevo ringraziarvi perché non nascondo di non essere in un periodo bellissimo della mia vita e magari credo sia un periodo un po' di transito non so se avete presente di andare da una parte voi state andando su quella via ma vedete lontano la meta però comunque vi ci state andando su quella via sapete che quella via è quella giusta però comunque la vedete lontana e niente questo ecco mi sento un po' così e non so fatemi sapere se anche voi avete mai passato un periodo del genere e poi un'altra cosa e anzi è la cosa principale ossia l'emergenza tutta questa emergenza l'Italia che ha bisogno un po' di di supporto che tutti abbiamo bisogno di un po' di supporto in questo periodo il fatto che siamo praticamente prigionieri in casa proprio è davvero brutto perché mi affaccio dalla finestra e vedo non vedo nessuno praticamente deserto che poi abito praticamente vabbè in una zona dove passa molta gente e è troppo strano vedere le strade deserte oppure se vedo qualcuno passeggiare lo vedo praticamente correre correre con le mascherine con i guanti e appunto non ci sono più persone che vanno a correre che vanno a fare una passeggiata questo è triste ma necessario ovviamente però è comunque molto triste spero che questa situazione passi presto poi ragazzi fatemi sapere come state e soprattutto soprattutto anche voi del nord insomma se c'è qualcuno che mi segue dal nord non so fatemi sapere come state e spero che questa situazione passi presto e niente diciamo che questo periodo per il dopo anno sia per me che un po' per tutti quanti forse però dai bisogna sempre cercare anche il lato positivo in tutto vabbè in questa situazione non la vedo però magari nella vita di ognuno di noi che ne so le piccole cose le piccole cose quotidiane appunto come ho detto il sole i fiori l'estate che sta quasi per arrivare e tutti i nostri cari le persone che ci vogliono bene e io sono anche molto contenta perché non me l'aspettavo ma ho rivisto delle amiche che avevo da liceo e da tanto tempo non le vedevo credo ah non mi ricordo però vabbè non mi ricordo quanto tempo le vedevo però da tanto e sicuramente guardano i miei video mi hanno sono state molto 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 carine perché mi hanno portato il regalo di compleanno dopo un po' di mesi perché appunto non ci siamo viste la prima cosa che mi hanno regalato è questa collana con il mio segno sodiacale allora devi sapere che io sono molto 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 fissata con i segni sodiacali soprattutto quel è il mio perché io mi ce li vedo moltissimo nel mio segno ossia non riesco a stare in uno schema e io devo sempre fare qualcosa di nuovo ogni giorno sono uno spirito libero via viaggiare sognare sono il classico sagittario medio e soprattutto nei periodi noio mi metto lì a vedere l'oroscopo e a vedere quanto finirà anche se va per lui e mi notare le risposte e poi il blu è il mio volore prima quindi proprio azzocca poi 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 loro sanno che sicuramente sanno anche se non glielo ho mai detto che a me piace il cene il paese delle meraviglie e io mi sento un sacco in lei e magari avessi gli occhi azzurri però non ce li vabbè sanno invece che scarlett potevo chiamarmi Alice e vabbè è tipo luna di notte sono delirato comunque hanno fatto questa bellissimissimissimissimissimissima tazza di 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 Alice è troppo bella poi anche i cinti le tazze la tagliere la chiave e un fiore dietro quelle fiori sì è troppo bella infatti non l'anno andavo dalla confezione perché non voglio assolutamente che si rovilli e wow e poi sono state ancora più carine perché mi hanno regalato una cosa molto bella che io stavo di bolleggio per farci sempre e sia questo qui un segnalibro di Alice sempre io adoro il cilipollone l'adoro proprio e infatti faccio sempre le stazioni sottile bellissima io le ringrazio molto e sicuramente guardo i miei video quindi le ringrazio anche qui e niente ragazzi ragazzi io voi oggi mi sono risa conto perché stavo un po' troppo sopra spero siate visto un po' qualcosa oppure ho parlato così non lo so va bene e noi ci rivediamo in un prossimo video e non lo so ho parlato un po' fa per questo video però a me mi piace moltissimo quindi non so fatemi sapere se anche a voi buonanotte 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 buonanotte